Sport e solidarietà protagonisti allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Sabato 19 novembre 2022 si giocherà la partita di beneficenza Metti in Campo il Cuore, tra la nazionale italiana Cantanti e i campioni del cuore Shalom. Importante perché aiutiamo una popolazione in difficoltà, che è la popolazione dell'Ucraina. Importante perché sarà una serata di festa e di sport, importante perché la nazionale Cantanti per la quarta volta, la terza da quando ci siamo noi come amministrazione, ha scelto di nuovo Empoli e sarà bello vedere come la città saprà rispondere, lo ha fatto molte volte in passato, facendo grossi numeri. Sono sicuro che gli empolesi che hanno un grande cuore saranno in grado di riempire lo stadio Castellani per quella che sarà sicuramente una giornata di festa.